amici ed amiche del canale youtube di dub logistica un caro saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento consueto con la serie trader life simulator 2 come sempre ringrazio gli sviluppatori della dna army per avermi concessa la calda in gioco naturalmente saluto e ringrazio mister moreno e come sempre campanellina se vuoi acquistare il vero cibo biologico italiano al 100% visita il sito www.ipianibio.it www.ipianibio.it li trovate anche su facebook ed instagram come sempre naturalmente vi auguro buon sabato buon fine settimana mi auguro che abbiate passato una bella settimana mi auguro abbiate passata una bella settimana saluto naturalmente oltre all'amico gilio e tutta la mitica compagnia dell'azienda agricola saluto mister moreno e tuzze e tuzze hashtag moreno e tuzze allora ragazzuoli in questo episodio faremo due cose molto molto interessanti non vi svelo ancora nulla allora se vi siete persi l'episodio precedente naturalmente vi invito ad andarlo a guardare naturalmente lo troverete nella descrizione cosa andremo a fare oggi di extra oggi andremo a fare due acquisti oggi faremo due acquisti molto 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 importanti andremo ad acquistare il pentolame quindi andremo a conoscere il nostro pipe hashtag pipe pipe e poi naturalmente andremo conosce anche il nostro rafa e hashtag rafa e adesso vediamo un attimino come siamo messi con le recensioni allora dato che abbiamo raggiunto il 31 per cento di recensioni positive abbiamo sbloccato la possibilità di andare ad acquistare direttamente le pentole del nostro pipe quindi adesso facciamo il nostro primo acquisto andremo a comprare gli articoli di casalinghi dal nostro paep quindi ci becchiamo fra pochino direttamente dal nostro pipe siamo quasi arrivati naturalmente il nostro pipe e praticamente si trova dopo il negozio di jabber quindi eccoci qua guaglioni finalmente inizieremo ad acquistare i prodotti per la casa eccole qua il nostro pipe buon giorno a te buon sabato a tutti salve a tutti gli amici del canale mi raccomando se non siete iscritti al canale fatelo applausi per set up vai grazie per senti pep finalmente anche a te tocca finalmente parti no accusare la sorda hashtag naco sarelle sort scegli pure non ti preoccupare che i prodotti qua sono tutti buoni e sceno in i mai ok poi grazie naturalmente sempre di esposizione se sempre un becci gentiluomo allora iniziamo a vedere un po' gli arti questo è caro ok queste dire di prenderla la caffettiera per il caffè padacca hashtag caffè padacca prendiamo anche le nostre ventole naturalmente le asciugamani qua abbiamo fatto la nostra prima spesa mi raccomando se non siete ancora iscritti al canale vi invito naturalmente a farlo perché è totalmente naturalmente gratuito e naturalmente se vi piace questa serie lasciate un bel like ma lasciate anche un like un pollice verso quindi il non like mi raccomando questo naturalmente mi permetterà di capire se questa serie vi sta piacendo e anche se non vi sta piacendo mi raccomando commentate a proposito della sfida dei hashtag cari ragazzuoli abbiamo il nostro moreno che ha azzeccato ben tre hashtag quindi facciamo un bel applauso al nostro morino saldiamo il nostro paio grazie di tutto grazie torno pure a spendere qua non ti preoccupare io l'aspetto grazie gentilissimo ci vediamo fra poco ecco vai nel frattempo naturalmente ragazzuoli ci concediamo andiamo a farci questo bel cicletto al negozio wagyu e poi andiamo a fare anche il secondo passaggio molto ma molto importante quindi wagyu scivecchiamo direttamente fuori al negozio ragazzuoli allora volevo dirvi che nell'episodio precedente stavamo mi ero dimenticato di dirvi che ho avuto un po' di problemi tecnici allora prima di fare ciò ovviamente acquistiamo anche il supporto per permettere le nostre ventole allora cosa vogliamo prendere meglio direi di prendere questo tavolino così ci appoggiamo tutto il nostro tutta la nostra nuova merce e quindi la potremmo esplorare vi stavo dicendo che ho dovuto doppiare il video perché purtroppo per dimenticanza mi sono dimenticato di attivare il microfono e infatti anche in questo momento sto doppiando grazie grazie hashtag sto doppiando il video hashtag sto doppiando il video tutta una parola naturalmente salutiamo mister moreno salutiamo anche mister ah yeah yeah salutiamo stato voluto naturalmente tutti voi che passate a guardare questa serie mi raccomando se vi sta piacendo questa serie naturalmente e siete interessati vi ricordo che al termine di questo video troverete la playlist dove appunto vi consiglio di andarvi a rivedere il primo episodio nel quale vi spiego un attimino come poter progredire in maniera piuttosto veloce ma anche più lineare è quella che è al momento ho provato e riprovato e devo essere sincero che funziona quindi tranquillamente così comunque campanellina se vuoi acquistare il vero cibo biologico italiano visita il sito www.ipianibio.it www.ipianibio.it li trovate anche su facebook e instagram naturalmente per chi non lo sapesse io sto utilizzando un software molto leggero ed intuitivo per la creazione di video che si chiama filmora che naturalmente come sempre nella descrizione del video vi lascerò anche il link del sito internet ufficiale dal quale potrete dare un'occhiatina a questo programma vi assicuro che è molto molto leggero intuitivo e poi ovviamente ve lo consiglio ve lo consiglio perché vi permetterà di fare quello che sto facendo io ovvero di doppiare in tempo reale il video allora ragazzi ci sistemiamo anche un attimino queste cose qui e mettiamo anche in esposizione i nuovi articoli allora vi faccio vedere che in base alle recensioni noi potremmo sbloccare si sbloccano diverse tipologie di mercele o cia che si possono acquistare quindi man mano che andiamo avanti potremo ingrandirci hashtag che confusione naturalmente è già arrivato ecco qua posizioniamoci il nostro bel tavolino poi ovviamente noi dovremo anche di vedere il tutto allora questi sono dei bicchieri finalmente abbiamo cominciato a a vedere quelle che sono i potenziali di questo bel giochino la caffettiera per fare il caffè padacca hashtag caffè padacca vai hashtag caffè padacca bella bella caffettia che ci faceva un bel caffettino ci voleva ragazzi stiamo gradualmente stiamo crescendo allora questi sono gli asciugamenti potrei metterli mi sa che dobbiamo modificare un po' l'assetto ok piazziamole un po' qua aspetta un momento questo è troppo eh ma quasi quasi le metto qua sotto ah si si comunque vi ricordo di prestare un po' di attenzione qua ah ragazzuoli ragazzuoli comunque sto giochino è bellino mi sta garbando tantissimo naturalmente fatemi sapere se vi sta piacendo questa serie lasciando un bel like al video mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivate le notifiche ci sistema ancora un po' di cose naturalmente ragazzi il tempo a nostra disposizione sta volando via quindi andremo a fare il secondo acquisto ovvero le poisson hashtag le poisson allora sistemiamoci un po' il frigorifero vediamo se riusciamo a fare un po' di spazio di spazio questo vediamo se riesce a spostare oh perfetto abbiamo recuperato un po' di spazio allora questo vediamo un po' se ci entra a posto ragazzi io direi che abbiamo fatto una cosa grande cosa facciamo naturalmente noi andiamo andiamo dal nostro Raffae il nostro pesce vendolo di fiducia naturalmente ci becchiamo fuori da Raffae a tutta l'era oh ragazzi siamo quasi arrivati dal nostro Raffae che pure il nostro Maurizio che prossimamente conosceremo si trova ovviamente direzione venditore di mobili usati all'incrocio girate a sinistra comunque la trovate sulla mappa andiamo a vedere in posto poi il nostro Raffae uè Raffae buongiorno buongiorno benvenuti nel mio negozietto serviti pure fatti una bella spesa mi raccomando tengo tutto quello che ti serve prendi prendi accatta buon sabato amici del canale mi raccomando iscrivetevi se è Dabba fai pure tu non ti preoccupare grazie Raffae allora io do un'occhiadina in giro e vedo di prendere un po' di possione ecco qua ragazzuoli prendiamo una cassetta di mesi poi nei prossimi episodi verremmo a prendere anche queste altre cose qui allora ragazzuoli ci avviamo naturalmente saldiamo il nostro Raffae qui Raffae io me ne vado grazie a tutti buon fine settimana a tutti mi raccomando iscrivetevi al canale grazie Raffae vai ragazzuoli scipecchiamo direttamente al negozietto vai allora ragazzuoli mi raccomando non sbagliate strada per andare dal nostro Raffae dovete andare in direzione del mobili del venditore di mobili usati e poi girate all'incrocio allora ragazzuoli adesso ci sistemiamo un po' le poisson hashtag di nuovo le poisson ci lo mettiamo bello e fresco naturalmente pian piano dobbiamo anche acquistare merce altra tipologia di merce perché pian piano dobbiamo poi iniziare sempre di più a fare cose più impegnative naturalmente vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto nel frattempo diamo un'acchiadina come siamo messi che sta messo un po' malaccio allora non è questo beh io direi quasi quasi di andare a fare un po' di plim plim ci facciamo una sciacquolina ragazzoli il tempo a nostra disposizione è volato via naturalmente ci finiamo di sistemare l'ultima vaschetta di pesce qua e poi naturalmente ci concediamo vi ricordo come sempre che nella descrizione del video oltre a trovare i link per i miei canali social per seguire i miei canali social troverete un link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati fino a 70% prepariamo lo screenshot naturalmente per la cobertina poi ci salutiamo e naturalmente l'appuntamento è per sabato prossimo ci voleva ragazzi vediamo un po' se stiamo messi meglio beh ci manca ancora qualcosina comunque siamo discretamente ci facciamo un salsetto d'acqua poi naturalmente ci conciliamo e ci becchiamo sabato prossimo mi raccomando alla alla sfida dell'hashtag naturalmente moreno al momento in testa con tre hashtag giusti quindi mi raccomando fatelo anche allora ragazzoli io ringrazio tutti quanti voi che avete guardato questo video aspettiamo che esca il cliente quindi grazie mille a tutti a tutti thank you so much è stato un buono aiuto grazie applausi un buono grazie 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 a tutti